Ciao e benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volta per quanto riguarda il Gold. Gold che ha seguito a dir poco perfettamente la previsione ciclica con il minimo che era previsto per l'8 di gennaio ma adesso lo spostarlo un po' più in alto che laggiù non ha senso. Per l'8 di gennaio che si è verificato l'11, mercato portito a rialzo e al momento il successivo picco per quanto riguarda un ciclo da 20 giorni è previsto intorno al 23 di gennaio. Quindi a conti fatti la direzione al momento rialzista è stata anche confermata. Tra l'altro ha generato anche un segnale perfetto per poter entrare al rialzo e abbiamo ancora paracchi a strada per poter fare dal punto di vista temporale e quindi il mercato conferma quella che è stata la previsione che abbiamo fatto inizialmente qua. Una previsione fatta a dicembre, anzi fatta qua. Come puoi vedere il mercato qui ha ricevuto un messaggio se scendi ti faccio un monumento, non ho visto neanche il monumento a me dedicato perché il mercato da qui è partito un forte ribasso. Data prevista del rialzo 8 dicembre, mercato che ha fatto il minimo il 13 di dicembre previsto il picco il 28 di dicembre e il picco l'ha fatto il 28 di dicembre previsto il minimo l'11 di... scusatemi il 9 di gennaio e il minimo l'ha fatto l'11 di gennaio. Questa è l'analisi ciclica che funziona, attenzione, perché con il mio metodo ciclico sappiamo prima quale sarà la direzione, senza dovere contare, aspettare che il mercato ci dica qualcosa farmo restando e che poi spesso e volentieri risultano anche errate perché è normale perché contando manualmente è normale che ogni tanto si vada a incappare in un errore è proprio il sito dell'essere umano. Andiamo ad aggiornare soltanto le date, quindi andiamo a... Allora, se riesco a pizzicarlo, grazie, andiamo solo ad aggiornare l'indicatore per sapere qual è la durata media che abbiamo avuto dei cicli quindi andiamo a spostare questo perché vado a sistemare... non l'avevo mai sistemati per quello li vado a sistemare per il semplice fatto perché almeno so la durata media di cicli subito antecedenti a quello attuale per poter avere anche un quadro, oltre a quello chiaramente di proiezione dell'indicatore avere anche un quadro di quello che potrebbe essere la durata dei cicli perché questo? Perché l'indicatore proietta nel futuro la durata media parliamo qua di uno storico che parte nel 2015 quindi siamo a 9 anni di storico la durata media in un ciclo da 20 giorni è 19 giorni però se noi guardiamo abbiamo avuto 28, 22, 19, 25 quindi se guardiamo anche solo questi ultimi 3, 4 cicli ci possiamo aspettare un ciclo che vada leggermente oltre a questo minimo se dovesse mantenere chiaramente una media come quella che stiamo vedendo adesso andiamo a togliere il ciclo da 20 giorni andiamo a togliere il ciclo da 40 giorni e vediamo che il ciclo da 80 giorni è quasi arrivato, anzi già arrivato a capolinea quindi che cosa significa questo? significa che la data tra sostanzialmente i massimi del ciclo da 80 giorni che è già avvenuto e il 23 di gennaio sarà probabilmente la data dove si potrà verificare un'inversione del mercato noi abbiamo questa bella trendline del ciclo da 20 giorni che vado adesso a togliere perché la vado ad aggiornare cosa vuol dire aggiornare? questo era un ciclo da 20 giorni ho preso la lavagna questo era un ciclo da 20 giorni, minimo e minimo però si è creato quest'altro ciclo, il successivo quindi questa trendline ciclica non vale più quindi andiamo semplicemente a cancellare anzi adesso la riciclo vado a togliere e vado a selezionare il nuovo ciclo che è questo e poi successivamente questo qua quindi per noi sarà importantissimo usare questa trendline per una conferma di inversione del mercato come puoi vedere la trendline ciclica è qualcosa di incredibile non ha niente a che vedere con le trendline discrezionali che non servono sostanzialmente a nulla perché a seconda del time frame o dello zoom che noi utilizziamo una trendline tradizionale può essere confermatrice di un trend a ribasso oppure semplicemente aumentando, vedendo più grafico può essere invece soltanto un ritracciamento di un trend a rialzo quindi all'interno magari di un canale più grande eccetera invece una trendline ciclica a qualsiasi lato e tu la vada a girare dà sempre la stessa identica informazione ma in una diversa andiamo a vedere se abbiamo anche una trendline ciclo da 40 giorni minimo ma ha pizzicato proprio sta schifo questo minimo del ciclo da 40 giorni non siamo un po' una bella roba tolgo tutto e lascio solo 40 si ha pizzicato qua quindi il ciclo da 40 giorni è questo questo è definito quindi non la faccio tratteggiata ma la faccio a color pieno sarà bello vedere la rottura di tutte queste due trendline per un ribasso andiamo a rimettere i cicli per poter lavorare meglio prima ovviamente di andare avanti ti invito a mettere un like alla mia analisi iscriverti al canale youtube, al mio canale e cliccare naturalmente sulla campanella per rimanere aggiornato con quello che è l'unico sistema che tu puoi vedere sul web che ti dice con mesi di anticipo che cosa farà il mercato parliamo di mesi di anticipo che cosa farà il mercato e in intraday stessa identica cosa infatti ti invito a guardare il mio sito visitarlo il tradingpartuti.com ok e iscriviti al canale telegang gratuito per rimanere sempre aggiornato con la mia operatività ricevere il setup operativi per poter lavorare per quanto è tuo però sapendo quando e che cosa dovrai cercare con i tuoi setup segnali intraday sui futures DAX, NASDAQ, S&P, Dow Jones, Gold e petrolio il mese sta andando davvero molto bene e lo possiamo vedere qua mese di gennaio siamo a 3 punti per quanto riguarda il DAX un break even sostanzialmente 50 punti per quanto riguarda il NASDAQ 0 per quanto riguarda il Dow Jones perché non abbiamo fatto operazioni 16 punti sull'S&P 98 punti sul Gold ossia 9,8 dollari di movimento qua puoi vedere i risultati dall'inizio di gennaio 1, 2, 3, 4, 5, 6 operazioni per un totale di 2.440 euro su un conto prop da 50.000 euro un conto prop chiunque lo può avere ma 10.000 euro a salire e non ha senso investire 1.000-2.000 euro nel proprio capitale su un conto trading perché non ci combinate nulla e il voler guadagnare di più che è normale porta a bruciare i conti invece prendendo un conto prop uno si è costretti a stare all'interno di regole molto restrittive molto difficili da mantenere ossia quella del drawdown massimo 2, consente anche se si hanno pochi capitali di accedere a capitali più grandi farà un giorno magari un video sulle prove che io utilizzo quelle che preferisco utilizzare ma al di là di quello è veramente una grossa opportunità per fare sì che il trading possa diventare un'attività vera e propria per chiunque ovvio bisogna avere il metodo giusto e il metodo giusto lo trovi solo ed esclusivamente da me volta un indicatore che prevede letteralmente il futuro movimento di mercato ovviamente ti dice con grande anticipo quando andare long e quando andare short questa mattina ad esempio nel canale riservato agli iscritti erano le 9.44 ho detto ragazzi per le 12 e dovrebbe formarsi un setup ribassista effettivamente il DAX è sceso però visto il cambiere che era chiuso vedete lo scritto le 13.52 oggi negli USA chiusi quindi niente operatività ma alle 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 ore prima ho detto quando il mercato sarebbe sceso e il mercato è sceso in quell'ora in quel momento lì ciò lo puoi ottenere solo ed esclusivamente con il mio metodo ciclo con l'indicatore Volta perché è l'unico algoritmo paroanalisi ciclica a mano non ti porta a prevedere che cosa fare al mercato ti porta a essere in balia del mercato quindi ti invito ovviamente sul mio sito andare sull'indicatore Volta cliccare su dettagli iscriverti all'indicatore iniziare a utilizzarlo guardare i video formativi e usare esattamente quello che dico nel video io spiego tutto anche come si fa a entrare al mercato qual è la cosa difficile che la maggior parte dei traders non riesce a fare è aspettare 5 operazioni in 15 giorni è difficile farle perché viene da fare almeno 5 operazioni al giorno se tu sei una persona intelligente non arrogante e sei convinto che fare il 300% al mese non sia la normalità che la normalità non siano Ferrari Lamborghini elicottero aerei shuttle e tutto quello che è ma che la verità sia poche operazioni si possono fare a mercato allora con l'indicatore Volta potrai dire sono uno dei pochi traders in grado di fare profitti con costante andiamo a vedere ancora il nostro bel gold è ancora in fase realtista quindi in realtà il segnale l'ha appena generato questo al momento da un punto di vista naturalmente dei livelli avremo il primo livello interessante che sono i massimi chiaramente del 28 di dicembre ma non tanto i massimi perché se no andiamo a vedere tutta questa è un'area importante parliamo parliamo dai massimi appunto del 28 di dicembre a questa apertura quindi a questa apertura e chiusura ossia stiamo parlando quella del 4 di dicembre quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare certo che si qua andrà comunque chiusa una parte di operazione non esiste tenerlo se poi il mercato dovrà andare a fare i nuovi massimi assoluti questo al momento non lo possiamo sapere abbiamo però evidentemente cioè si vede molto bene questa trendline che ho tracciato che non è nient'altro che lo specchio della trendline del ciclo di 20 giorni che ho tracciato per creare un canale ciclico che potrebbe essere perché no il possibile target del movimento però chiaramente prematuro quindi mi raccomando chi ha preso esattamente il segnale così come ho detto in analisi scorsa che il mercato era long in area 2086 potrà andare a chiudere la posizione o in parte oppure totalmente con questo direi che è tutto ti auguro una buona serata mi raccomando sotto troverai il link per diventare anche tu uno dei pochi traders profittevoli con costanza uno dei pochi traders in grado di prevedere i mercati finanziari non cadere nell'errore di adesso va lo smart money l'unico modo per fare trading è lo smart money lo smart money non prevede il mercato devi stare tutto il giorno al computer ad aspettare che si fanno un setup e per fare un trading sul minuto o 5 minuti devi partire dal mensile e questo mi dispiace ma non è modo di fare trading anche se è molto efficace su questo non ci sono dubbi e se utilizzi i volumi i volumi sono indicatori di momentum non potrai mai prevedere che cosa farà il mercato con i volumi infatti la parola d'ordine con i volumi qual è? contestualizzare il volume grazie bisogna sempre contestualizzare tutto l'analisi cicca non va contestualizzata l'analisi cicca che si prende così com'è quando siamo su un picco si va short quando siamo sul massimo si va long se ci sono i setup per entrare il setup è fondamentale per entrare e ti insegno tutto o con l'indicatore di volta non puoi più tutto o con la formazione qualora tu volessi approfondire l'academy cycle e volume quindi qualcosa che non trovi assolutamente al di fuori del sito trading per tutti con questo è tutto ti auguro una buona serata ciao ciao